Però lui ha perso la partita stamattina con Renzi. Perché l'ha perso? Prima gli ha dato la legge elettorale al Senato, poi adesso gli da pazienza ai pubblici, vuol dire che Renzi può andare a elezioni quando vuole e liberarsi di quelli che resistono a lui all'interno del suo partito. Quello che vuole Renzi è quello, sa che se resta lì più il tempo fa, se più lui perde voti. E quindi ha la possibilità di andare a elezioni e far fuori tutti i veri che gli resista all'interno del PD. E' bello svegliato tutte le armi per farlo. E quindi ora cerca voi per provare un po' di forza?